Allora, dopo averlo inseguito a lungo, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo con Filippo Merani dell'officine IADR, che saluto, loro sono Alces, un'altra startup interessante, ci facciamo dire da loro cosa fanno, cosa presentano e qual è la loro peculiarità. Ciao, buongiorno a tutti, un saluto qua dal CES di Las Vegas, noi siamo venuti insieme alla delegazione italiana di 50 startup per l'innovazione a presentare quest'anno a CES il nostro dispositivo che si chiama Demeter, abbiamo inventato, che vi faccio vedere, arriva subito, è un distanziometro laser a un metro automatico per architetti studiato, dove agevola un lavoro che noi odiavamo fare, abbiamo tutti un background di architettura e designer, perdevamo ore a fare gli lievi nelle varie abitazioni, poi andare in ufficio, lavorare il file nel formato CAD e quindi una per rampa rigliata di tempo. Allora abbiamo inventato questo strumento. Facci vedere come funziona. Funziona tramite un'applicazione, lo metti al centro della stanza, previ play, lui fa un giro su se stesso e in meno di 30 secondi ha preso le misure di tutto l'appartamento. Te lo fa vedere direttamente sull'applicazione, quindi in una mappa e poi il file esportabile in un formato BIM o CAD pronto per la lavorazione. Quindi diciamo evita quei tanti passaggi che ci sono facendolo normalmente come avviene adesso. Esattamente, ti evita di perdere tempo in due persone a prendere misura per misura, riportarle sulla carta, poi in ufficio perdersi al computer mettendo muro per muro, invece in questo modo hai tutto pronto in automatico, veloce, pratico e tascabile. Ecco, come sta andando la fiera e come sta andando il vostro progetto riferito appunto ai visitatori della fiera? Guarda, la fiera è splendida, c'è stato davvero fantastico, tanti visitatori, tantissimo entusiasmo. Abbiamo poi ricevuto la visita del ministro Pisano per l'innovazione, è stato un incontro fantastico e stiamo contenti, stiamo suscitando un sacco di interesse e la cosa ci dà molta soddisfazione. Ecco, immagino che non avete avuto tempo perché voi siete lì per lavorare, avete conosciuto qualche altra start-up italiana? Eh guarda, abbiamo avuto veramente poco tempo perché qua i ritmi sono serrati, i visitatori sono tantissimi e per fortuna non hanno, non ci hanno lasciato un momento di tregua. Invece hai avuto un minimo di tempo per andare a visitare la fiera, per andare a vedere qualche novità? Guarda, spero oggi di riuscire ad andare a fare un giro per la fiera perché ci sono un sacco di cose interessanti, qui a Eureka Park sono tutte start-up ma ho visto prodotti davvero interessanti, innovativi, è bella, è davvero bella. Ecco, dici il sito dove andare a vedere quell'oggetto? Allora, il nostro prodotto lo trovate su demeter.it, t-h-e-meter.it. Ok, allora noi ti ringraziamo soprattutto per la pazienza che hai avuto per fare questo collegamento, finalmente anche la linea ha tenuto. Ce l'abbiamo fatta oggi. Magari proveremo domani, non te lo so dire, comunque ci farà piacere sentirti anche dopo per i commenti post fiera. Molto volentieri, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, ciao. Ciao.